Do you want to speak like a native speaker? Ciao, sono Monica ed impara l'inglese con Monica.com e se vuoi parlare l'inglese come un madrelingua ti invito a guardare questo video. Nella lezione di oggi ti fornirò infatti il significato dell'espressione di slang che ho selezionato per te questa settimana. The slang of today is yep. Yep is an absolute yes that implies far more than a simple yes. L'espressione yep vuol dire quindi sì, proprio così, certo. Vediamo una frase di esempio. You mean that they actually apply that strategy? Yep. Davvero intendi che hanno applicato quella strategia? Assolutamente sì. Are you going to sit there all day? Yep. Hai intenzione di stare seduto lì tutto il tempo? Assolutamente sì, certo che sì. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo slang of the day. E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona che desidera parlare inglese like a native speaker. A presto!